Presidente, la prima domanda è tutta politica. Lei ha detto io mi dimetto il 31, forse se non prima, magari il 24, però da Roma mi chiedono di restare. Lei è proprio sicuro al mille per mille che si dimette entro il 31? Non c'è dubbio che c'è un grande lavorio di forze politiche che non sono preparate alle elezioni del 28-29 ottobre perché non si voti. E c'è un grande lavorio perché tradizionalmente la Sicilia è stata usata come merce di scambio sul tavolo dei partiti e degli equilibri nazionali. Per cui se si votasse contemporaneamente magari la presidenza della regione siciliana verrebbe scambiato con un ministero importante piuttosto che con un'altra carica. Noi vogliamo votare liberamente e autonomamente 4, 5, 6 mesi prima di quando non si voterà a Roma. La verità è che non è che non si crede alle mie dimissioni. Purtroppo ci si crede ma si vorrebbe che non ci fossero. Quindi mille per mille si dimette. Possiamo considerarlo un dato di fatto. Lombardo, un'altra questione riguarda il debito della Sicilia. Lei ha detto abbiamo 5 miliardi di debito in proporzione niente rispetto al debito dello Stato. Cosa volete da noi? Sintetizzo. Però la Corte dei Conti dice che c'è una diffusa, sempre più diffusa tendenza a occultare le effettive passività. Cioè ci sono 15 miliardi di roba che potrebbe diventare debito a breve. Premesso che si è creato ovviamente un grande battaglio e un clima da dissesto e da spreco. Io l'ho citato la Corte dei Conti, però Lombardo. Rimaniamo alle cose concrete. Dissesto e spreco? No, io due secondi che chiaramente noi abbiamo ridotto e se possibile eliminato in mille occasioni. Si legge ad esempio che avremmo assunto decine di migliaia di persone. Il mio è il primo governo che ha fatto una legge per bloccare le assunzioni. Non abbiamo assunto nessuno. Lombardo, la Corte dei Conti dice che avete assunto 5 mila tempi determinati, passando a 13 mila a 17 mila nell'organico e anche circa 2.800 nella sanità che mettono a rischio il tetto di spesa. Questo dice la Corte dei Conti e non lo diciamo noi o Libro o Germano. Assolutamente nessuna nuova assunzione. Le assunzioni nella sanità erano nel piano di rientro che noi abbiamo rispettato. Noi abbiamo rispettato un piano di rientro, risparmiato un miliardo in quanto a spesa sanitaria ed eravamo tenuti in base a questo piano di rientro che è stato fatto da Roma insieme alla Sicilia ad assumere delle figure professionali di medici e paramedici di cui la Sicilia era carente. Questo nel contesto di una riduzione della spesa di un miliardo di euro e con elogi al sistema sanitario siciliano e alla riforma che abbiamo fatto dal ministro Balduzzi ai suoi predecessori fino alla Commissione europea. Questo per essere chiari. Però Lombardo non mi ha risposto sulla prima domanda, cioè la tendenza sempre più diffusa a occultare le effettive passività, cioè i famosi residui attivi, soldi che non entreranno. Ma non è così. Allora, tanto per essere chiari, la Corte dei Conti in sede di parifica ha legittimato la regolarità e la legittimità del nostro bilancio. Questo ha fatto la Corte dei Conti. In quanto ai numeri e al crack, qualche giornale che lo ha scritto stamattina a nove colonne in prima pagina non potrà che essere coeralato e gli saranno richiesti i danni in sede penale e civile, non c'è dubbio, è semplicemente una menzogna. Perché? Viviamo un momento di grande difficoltà, credo anche come il Paese. Noi abbiamo un credito di un miliardo di euro dal nostro Paese, dal Governo dello Stato, per cui risolveremo molti problemi di casse e di liquidità. Poi abbiamo questi numeri semplicissimi. Vi dico solo due cose. Abbiamo un PIL di 80 miliardi, un bilancio di 27 e un debito con le banche di 5. Abbiamo pagato le rate di giugno, pagheremo quelle di 5. Chiarissimo Lombardo, però, mi faccia completare il confronto. Questi numeri li abbiamo sentiti, li abbiamo anche mostrati noi, Lombardo, però la querela... Vuole mostrare anche quelli, vuole mostrare quelli dello Stato, che sono 1.600 di PIL e 2.000 miliardi... Lombardo, ci arriviamo immediatamente, le volevo solo chiedere, visto che il crack non l'ha evocato solo la stampa, ma un suo assessore, quello dei trasporti Andrea Vecchio, ha detto sì, c'è il rischio crack di non pagare gli stipendi, si querela anche lui. Come mai all'interno della stessa giunta c'è chi parla di un crack? No, no, guardi. Parliamoci chiaro. Ci sono molti rami dell'amministrazione regionale. Ad esempio quello che compete all'assessore Vecchio, che è arrivato un mese fa, il quale si occupa di trasporto pubblico locale. Gli stipendi in questo caso li pagano i privati. Siccome abbiamo, nel nostro spending review, che abbiamo avviato ben prima dallo Stato, abbiamo ridotto, credo, del 30-25% la spesa per il trasporto pubblico locale, ci sono state manifestazioni e quindi anche minacce di licenziamenti. Questo è il problema. Gli stipendi della Regione e degli enti collegati dalla Regione vengono pagati puntualmente, pur in un momento di grande crisi e di recessione come quello che viviamo. Quindi non lo querela il suo assessore Vecchio che ha detto c'è il rischio crack? Vogliamo confrontarci con i numeri dello Stato? Come? Ecco, allora, non querela il suo assessore che ha detto lui crack, oltre alla stampa. Ma perché infatti non ha parlato di quel crack e di quel fallimento della Regione di cui parlano impropriamente e dicendo il falso a certi giornali. Insomma, questi sono punti di vista. Parliamo dello Stato. Lombardo, lei ha detto che lo Stato ha un debito molto più alto della Regione Sicilia, ma nel debito pubblico dello Stato ci sono anche trasferimenti alle Regioni. Una Regione come la Sicilia per ogni abitante c'è un disavanzo di 2.000 euro nei trasferimenti con lo Stato. Allora, per essere chiari, lo Stato italiano, io mi aspettavo che si facesse il confronto con i numeri. Quindi, il debito pubblico del nostro Paese, compresa la Regione siciliana, ma non soltanto, la Siciliana è del 120% del PIL, il nostro è del 7,5%. Lombardo, l'argomento che le chiedevo di commentare è che in quel 120 ci sono anche spese per la Sicilia, perché in Sicilia ci sono cose che paga lo Stato. Ma ci sono per la Sicilia e per le altre Regioni, ci sono per la Sicilia e per tutte le altre Regioni. E la Sicilia nei prossimi tre anni, secondo questo ultimo decreto, dovrà ridurre le proprie spese di 1 miliardo e 400 milioni all'anno. Non so come si potrà fare, non so chi pagherà, pagheranno sicuramente i più deboli. Si parla di licenziamenti di centinaia o di migliaia di persone. Saranno veramente problemi da macelleria sociale che io sicuramente non auguro a nessuno di dovere fronteggiare. Niente al governatore e niente al Presidente del Consiglio. Lombardo, lei quando si sente evocare a tinte forti i concetti come guerra civile, esplosione sociale in Sicilia, come commenta? Guardi, li ha evocato, se non ricordo male, il Sindaco di Palermo, che ha alcune migliaia di precari che fino a ieri sono stati pagati con i fondi FAS che aspettavano la Regione e che domani dovrebbero andare a carico di un comune che, a proposito dell'ultimo decreto Monti, credo che, senza parlare delle spese per i precari, perderà a partire dal prossimo anno qualcosa come una trentina di milioni rispetto agli attuali trasferimenti. Saranno problemi drammatici, quelli sono i gravi problemi che dobbiamo affrontare, che non riguardano la Sicilia piuttosto che la Puglia, ma che riguardano lo Stato italiano, il nostro Paese. Lombardo, quando lei dice vada a morire ammazzato, chi vuole che io licenzi la gente, ma ci faccia capire, i 30.000 forestali, i 20.000 dipendenti servono oppure lei dice comunque anche se non servono pago stipendi e non voglio lasciarli in mezzo alla strada? Allora, tanto per essere chiari, questi dipendenti erano 30.000 quando sono arrivato e sono 26.000 perché 4.000 sono andati in pensione. E 26.000 servono o è welfare? Uno nuovo. 26.000 per essere chiari. Io ho detto vada a morire ammazzato perché? Perché io ammazzerei 20.000, 30.000 o 50.000 persone e io questo non lo faccio. Ma servono o è una forma di welfare? Ma le dico subito, io credo che basterebbero la metà per fare le cose che fanno loro, forse ne basterebbero la metà, ma sono stati assunti in passato, non sono licenziabili e non si possono sicuramente ammazzare, questo volevo dire. Lombardo, altra questione, l'Europa, quindi di nuovo non in giornale, ha detto i soldi io ve li blocco, 600 milioni già bloccati rischiano di bloccare tutti perché non li sapete spendere, non controllate, anche questo... Non è così, non è così, sono 600 milioni, preciso, sono 600 milioni che riguardano precise opere pubbliche, a che so, la linea tramviaria della città di Palermo ed altre per le quali non sarebbero stati fatti, non che non sono stati spesi, non sarebbero stati fatti controlli e certificazioni. Ma mica è poco, l'Europa li ha bloccati. No, mio caro, sono competenze di dirigenti regionali ai quali abbiamo chiesto il conto. Certo, non vado a certificarla io la spesa, sono mansioni che spettano, la politica, come lei sa, programma, orienta le risorse, ma se poi non viene fatta correttamente la certificazione, sarà il dirigente a renderne conto ed eventualmente a pagare. Lombardo, ma lei ritiene che il Presidente di una regione per di più a Statuto Speciale non abbia responsabilità politica se l'Europa blocca i fondi perché non vengono fatti i controlli? Io mi carico di tutte le responsabilità, anche quelle che non sono mie, ma poi ovviamente ciascuno risponde delle proprie. Le 100 nomine di cui è accusato negli ultimi tre mesi, si dice prima di andare via tutti i nominati, come risponde anche questo, tra cui ricordiamo una persona che era in carcere? È una grande sciocchezza. Sa due persone che io devo nominare, chi sono ad esempio? I due assessori alle autonomie locali e alle acque e rifiuti, dei quali di Casteri, se così vogliamo definire, delle quali e delle che sono ad interim titolare io, li devo nominare perché sicuramente non ce la faccio e non ce la farà l'aggiunta quando io mi sarò dimesso. Devo nominare dirigenti regionali che per esempio sono andati in pensione, devo nominare revisori dei conti, senza la quale nomina non si possono certificare i bilanci, le aziende non possono funzionare. devo nominare presidenti di società, visto che se sarà dimesso qualche commissario, non nominando i quali compio un abuso d'ufficio, che è un reato. È chiaro questo? Le nomine sono soltanto queste. L'Assemblea approva una nomina, approva una legge, dopodiché la rispetterò. Ad esempio quella dello spoil system, che io ritengo correttissima. quando va a casa un presidente di regione, il suo successore cambia, perché devono avere la sua fiducia, quella del governo, i nominati nei vari posti di responsabilità. Non sembra così perché i dirigenti sono tantissimi, sono state una sedimentazione di nomine. Lombardo, un'ultima domanda, ma proprio davanti a... No, 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 la devo correggere perché lei dice delle cose che vanno corrette. Prego. Erano una quarantina e sono 28 i dirigenti. Non nominati. La vostra regione ne ha più del... Li abbiamo... Del governo inglese. Veda, veda, sono circa 2.000, ma li abbiamo ereditati, anche in questo caso. E quindi non si possono... E sono di meno di prima di quando ci siamo insediati, perché molti sono andati in pensione. Ma è quello che... Lombardo, è quello che ho detto. Cioè, quando uno arriva non può cacciarli tutti, quelli di prima. Lo spoil system arriva fino a un certo punto. No, non ne può cacciare neppure uno. Non ne può cacciare neppure uno. Era il mio argomento. Non tutti. Lombardo, un'ultima questione. Ma in tempi di antipolitica, lei è proprio sicuro che completamente qualsiasi forma, non dico di mala gestione, ma di problemi che ci sono. Tipo il fatto che lei è il più pagato governatore d'Italia, il numero di dipendenti pubblici molto più alto che nella media, la spesa per capita. Tutte queste cose. Non sia poi un boomerang, anche nei suoi confronti. Guardi, se io negassi oppure disconoscesti questi problemi, cercherei di nascondere la verità, ma credo che questo non mi appartenga. In quanto la mia indennità, che è di 14.000 euro, l'anno, le posso assicurare, guardi, non ci crederà, ma io vado a casa senza aver accumulato un euro in più, perché un Presidente di Regione forse ha qualche euro di spesa in più rispetto a un qualunque cittadino che merita e guadagna il suo stipendio. Grazie. Grazie.